Musica Musica Lo so, sarò noioso, ti stuferai sentirmi dire queste cose, ma il teorema qua, il paradigma chiave che io cerco di trasmettere è quello, guarda che la ricetta semplice, chiave per poter creare dei contenuti di vero valore, è quello di andare là fuori e di raccogliere e mettere in ordine quelle cose fantastiche che già ci sono, ma che siccome nessuno organizza e mette in ordine sono difficilissime da trovare e quando sono insieme valgono molto di più che la somma delle singole parti. Prendi l'esempio di call2idea.com, questa risorsa fantastica fatta voglio dire solo per amore, con nessuna finalità commerciale, non c'è nemmeno la firma dell'autore, uno sponsor, un link affiliato, niente. Call2idea è una raccolta di pagine web di qualità organizzate per i loro utilizzi, per le loro applicazioni, pagine web per mettere delle liste, pagine web dove ci sono testimonianze, pagine web dove ci sta il listino prezzi, pagine web dove mettere un catalogo, esempi su esempi su esempi di pagine di qualità, perché le persone apprezzano così tanto una risorsa del genere? Non c'è niente da comprare, non ci sono notizie, non ci sono articoli, ci sono soltanto esempi di qualità organizzati per categorie, l'autore non ci ha messo nemmeno un suo commento, un rating, niente, eppure se tu vai a vedere fra le cose, fra le risorse che ho condiviso negli ultimi giorni, questa è una di quelle che è piaciuta di più, quindi ragioniamo un attimo insieme io e te, cos'è che fa la differenza? Uno, raccogliere cose che esistono là fuori e che possono ispirare gli altri, che possono essere utili per farsi venire nuove idee, per vedere altri come hanno fatto una cosa, per miscelare idee esistenti, per usarle come riferimenti per dire a qualcun altro guarda, la voglio così, quindi raccogliere esempi di qualità e organizzarli, metterli in ordine, di modo che poi diventi facile trovare ciò che a me interessa da dentro, ora per quanto questo sembri così semplice, ovvio e di dubbia qualità, vatti a vedere di nuovo questa risorsa coltuedie.com e valuta tu quanto è veramente utile e poi prova a indicarmi una risorsa italiana che fa un lavoro analogo, cioè dove senza fini di ritorno immediato, perché lì si vende qualcosa, mostrami qualcuno che raccoglie, organizza a 360 gradi come ha fatto questo signore che ha creato Coltue Idea, delle risorse, delle informazioni, dei tool, degli strumenti, degli esempi di qualità in un certo settore, nel settore che vuoi tu.